L'esercito nelle scuole al recupero degli under 19 non ancora vaccinati, il Green Pass sempre più esteso e necessario per la vita sociale, i banchi distanziati, le classi ridotte, le mascherine obbligatorie. Insomma, dentro le scuole si fa di tutto per prevenire il contagio da Covid. Ma fuori? Cosa accade fuori? E soprattutto cosa accadrà di nuovo sugli autobus e in tutti i servizi di trasporto scolastico? Ci ha insegnato qualcosa la prova generale dell'anno scorso? Non sembra, almeno secondo le organizzazioni sindacali dei trasporti, che continuano ad invocare soluzioni fattibili e non da mondo dei sogni, sia all'interno dei mezzi che nei terminal bus. Noi continuiamo ad assistere a dichiarazioni tranquillizzanti da parte soprattutto della società regionale di trasporto, che ci continuano a dire che è tutto pronto, sarebbero pronti i servizi aggiuntivi su tutto il territorio regionale, sarebbero pronti anche quei servizi fondamentali di controllo a bordo dei mezzi per verificare che effettivamente gli utenti rispettino le disposizioni previste dal Ministero. Però di fatto noi non sappiamo più di tanto perché le rappresentanze sindacali, quindi le forze sociali, sono state di fatto escluse dai tavoli prefettizi che si sono tenuti a livello provinciale, che sono serviti proprio a definire il livello dei servizi da garantire con la riapertura delle scuole e anche a capire chi effettivamente debba predisporre queste attività di controllo. Noi abbiamo sentito parlare di steward, però io posso confermare ufficialmente dai confronti, dai colloqui che abbiamo avuto con l'azienda, che non ci sono state al momento assunzioni di figure specifiche che dovrebbero in qualche modo garantire quelle operazioni di controllo a bordo dei mezzi. Quindi ipotizziamo che alle 8 debbano salire sul mezzo dalla stazione per andare al rispettivo liceo, alla rispettiva scuola dei ragazzi, rimane l'80% ancora di occupazione, ma chi è che in quel momento, mentre l'autobus è fermo ma in procinto di partire, dovrebbe far salire queste persone ed eventualmente verificare se siano vicini o sono lontani, se siano a distanza con la mascherina e quant'altro? Sempre chi guida? Noi temiamo proprio questo, noi temiamo che si possa ripresentare quanto purtroppo abbiamo già assistito lo scorso anno, quando magari c'era un minore utilizzo del mezzo pubblico, quando la capienza era al 50%, oggi è all'80%. C'è qualche mezzo, ma è sporadico, davvero sporadico, non sappiamo nemmeno quale collocazione abbia a livello regionale, che dispone di strumenti in grado di contare automaticamente il riempimento a bordo del mezzo. Però, ripeto, non è installato su tutti i mezzi, molto spesso non è attendibile. Immagino il disagio soprattutto nel servizio urbano, quando questi numeri cambiano in continuazione ad ogni fermata. E' quello che temiamo che si riproponga quello che è successo lo scorso anno. E alla fine toccherà al personale di guida andare a controllare, non soltanto che l'utente disponga di mascherina a bordo del mezzo, ma che assicuri il distanziamento e anche effettuare i conteggi a bordo del mezzo. Io voglio ricordare anche i tanti episodi di violenza a danno degli autisti, perché purtroppo non tutti gli utenti sono propensi a rispettare le regole, non tutti gli utenti si sono vaccinati. Sappiamo che non c'è l'obbligo del Green Pass a bordo. Poi se la situazione dovesse peggiorare probabilmente ci risentiremo.